Ritrovamento di ossa umane appartenenti a più scheletri a Montemaggiore nel comune di Colli al Metauro lungo le mura medievali durante i lavori di scavo per le infrastrutture necessarie alla posa dei cavi della fibra ottica da parte della Open Fiber che sta operando in questi giorni tra Villanova e Montemaggiore per la banda ultralarga. Ecco nel punto dove vedete che stanno operando gli archeologi della sovrintendenza è il punto esatto dove sono stati ritrovati i resti di ossa umane, sono stati trovati 5 teschi e anche dei resti che sembrerebbero essere appartenuti a un bambino viste le dimensioni. In questo momento si stanno facendo i rilievi e quindi i tecnici della sovrintendenza in assistenza al cantiere stanno operando i rilievi e i monitoraggi. Le ossa sono venute alla luce mercoledì della scorsa settimana quando gli operai della ditta si trovavano in via del castello all'altezza del numero civico 13 creando subito curiosità ed interessi in molti abitanti del centro storico. La presenza in questo punto di resti umani è dovuta ci dicono gli anziani del borgo al fatto che in epoca medievale in questo punto esatto fuori le mura di Cinta sorgeva la pieve di San Carlo meta di molti pellegrinaggi e come spesso avveniva in passato adiacente alla chiesa si trovava un cimitero. Sempre in questo punto sorgeva anche l'abitazione di una famiglia nobile che possedeva la propria cappella privata. Monte Maggiore dal punto di vista archeologico è in una zona rossa ed ecco spiegata la presenza della sovrintendenza che opera un'assistenza tecnica al cantiere durante le operazioni di scavo perché si opera appunto in siti ad alto tasso di ritrovamenti come in effetti è stato. Nello scavo sono stati rinvenuti anche pezzi di vasellame che potrebbero aiutare gli archeologi a datare il periodo in cui questi corpi sono stati inumati. Dopo i rilievi e la mappatura dello scavo le ossa saranno ricomposte in un luogo indoneo individuato dalla sovrintendenza per effettuare altri approfonditi accertamenti.